bene libri tv cardo cristiano finalmente ci siamo sono passate esattamente 365 giorni da quando abbiamo lanciato il mio libro vi dichiaro uniti ecco cosa è successo in questo tempo è successo di tutto mi sono arrivati tanti messaggi sono stato contattato tramite i social ma anche di persona mi sono arrivati anche degli spunti tra l'altro che voglio mostrare delle cose scritte nel libro in più ci sono delle sorprese sono delle sorprese quindi domani alle ore 21 quindi il 24 novembre alle ore 21 presso la pagina facebook di liberi.tv ci sarà una sorta di colloquio con me sarò io one to one io insieme a voi quindi potrete intervenire potete farmi domande ma io vi racconterò quello che è successo in questi 365 giorni dall'uscita di vi dichiaro uniti il libro che ho scritto proprio un anno fa e che racconta la storia della mia vita ma non soltanto racconta la storia della comunità lgbtqi asterisco e che racconta le storie di persone quindi è importante che domani siete tutti presenti fatemi questo favore vi prego siete tutti presenti voglio delle domande anche delle domande scomode ma voglio delle domande non ho paura di rispondere a nulla anzi vi darò vi darò anche delle dritte vi darò anche delle idee di quello che è successo durante quest'anno e veramente sono successi di tutti i colori a parte il nostro lockdown però è successo di tutto quindi riccardo cristiano vi dà appuntamento domani alle ore 21 presso il la pagina facebook di liberi.tv dove potete seguire in diretta la presentazione di quello che è stato l'anno di vi dichiaro uniti va bene quindi ci vediamo domani non mancate io sono qui per voi e soprattutto mi raccomando siate sempre liberi